nel video di oggi ragazzi non vedremo il classico backstage dove andiamo a utilizzare la luce artificiale rimandato tutta la prossima settimana concedetemi anche a me ogni tanto di portarvi un video recessione dove ti faccio vedere dei prodotti che ritengo interessanti e anche dei prodotti che vado a utilizzare io personalmente come il prodotto di oggi perché quello che ho tra le mani è una console di tour box ok che praticamente ti aiuta a semplificare ea velocizzare l'editing fotografico e soprattutto anche per montare i video quando utilizzi final cut utilizzi da vinci insomma qualunque software non solamente per editare i video ma anche per modificare le foto una cosa che io ho utilizzato già da lontano 2018 sto parlando sempre di prodotti di tour box ok però oggi mi concentro su questo nuovo prodotto che è più economico perché non ti porto il top di gamma trovi tantissime recensioni proprio su questa piattaforma vatele a vedere ti faccio vedere comunque nel video di oggi qualcosina però questo prodottino è molto più economico perché costa sotto i 100 euro e come ti dicevo ti aiuta tantissimo soprattutto per coloro che hanno magari difficoltà a memorizzare le combinazioni a tastiera che devi utilizzare proprio con photoshop o con lightroom insomma con tantissimi programmi ecco che questa è la soluzione che ti aiuterà tantissimo quindi guarda questo video e poi ovviamente ti faccio vedere anche cosa utilizzo personalmente per editare le foto oltre ovviamente a questa console ti faccio vedere anche una tavoletta grafica che potresti acquistare anche perché è decisamente economica dunque ragazzi iniziamo a vedere più da vicino questo nuovo prodottino di tour box oggi ti porto il nuovo prodotto cioè la versione light che è stata rilasciata proprio recentemente ok quindi da non confondere con la versione e light tanto meno con la versione neo che io utilizzo da lontano 2018 quindi conosco molto bene questi prodotti e ti posso parlare dare il mio feedback proprio di utilizzo quotidiano perché io ho sempre utilizzato questo controller per editare sia le mie foto e anche i miei video ok e quindi posso dire innanzitutto che sono prodotti curati decisamente molto bene soprattutto per quanto riguarda i materiali che va a utilizzare e anche il funzionamento diciamo che il massimo l'hanno raggiunto proprio con questa versione e light che è quella più completa ma è anche quella più costosa ok perché parliamo di 260 euro quindi non tutti sono disposti a spendere una cifra del genere ecco che tour box ha rilasciato la versione economica abbiamo meno tasti e adesso ti faccio vedere anzi il contenuto troviamo le istruzioni per l'installazione che ovviamente è molto semplice perché hai bisogno solamente del cavo che trova in dotazione che lo devi collegare al controller e al tuo pc hai bisogno di un'applicazione che trovi nel sito e devi scaricarti ovviamente la versione in base al sistema operativo che vai a utilizzare quindi mac oppure windows una cosa molto importante che devi fare per utilizzare al meglio questa console dico soprattutto perché utilizza sistemi operativi di apple ok alcuni programmi sicuramente sapete che vi possono richiedere delle autorizzazioni per funzionare completamente altrimenti praticamente avete un programma castrato ecco questo che andate a installare è uno di quelli quindi quando installate l'applicazione per utilizzare questa console ok dovete entrare proprio nelle impostazioni ma vi verrà ricordato sicuramente quindi importazioni privacy security accessibilità vi logate e flaggate proprio il programma e a questo punto potete utilizzare completamente questa console ok alle mie spalle non so se si vede ho aperto proprio lightroom che è il programma che praticamente io utilizzo sempre anche perché creo i miei cataloghi ok photoshop lightroom praticamente il pacchetto che utilizzo praticamente sempre ok però ti dico questo perché lightroom è praticamente l'unico programma che non vado a utilizzare con questa console neppure in passato l'ho fatto con la neo perché semplicemente almeno personalmente vado decisamente meglio a utilizzare la tastiera e il mouse ok finirlo dico se magari qualcuno di voi utilizza solamente il lightroom ok se vi trovate bene con la testiera secondo me avere questa console non è che vi aiuta più di tanto poi vedete voi perché sicuramente non andate a utilizzare solamente il lightroom come ti ho detto e ti dirò ancora durante proprio questo video è molto utile questa console che è costruito decisamente bene credetemi che sotto questo punto di vista questa azienda si merita il 10 e hai anche il cavo che ti serve per alimentare perché non abbiamo una batteria interna tanto meno le dovrai inserire perché si alimenta proprio tramite il pc e questo cavo ovviamente comunica con l'applicazione ok cavo che è fatto anche in questo caso molto molto bene allora come ti dicevo i materiali la sensazione di costruzione è decisamente secondo me il top è molto pesante questa è una cosa voluta anche per evitare proprio che va di ascivolare nella scrivania ok anche quando la utilizzi non si muove questo l'avevo già constatato con il primo modello ok hanno cambiato le plastiche quindi non avrai più questi problemi di polvere che va appiccicarsi proprio nella carcassa hanno ovviamente fatto questa cosa anche nella versione e light la puoi pulire quando ovviamente si sporca per tutti coloro che magari vogliono anche avere dei prese già pronti all'utilizzo oltre a quelli che trovate già quando ovviamente andate a installare l'applicazione è possibile anche installarne di altri vai esattamente sulla pagina ufficiale di tour box alla sessione download c'è ovviamente la possibilità di scaricare il software oppure i prese entri proprio nella pagina dedicata ai prese e lì vai a esplorare trovi tantissimi programmi insomma vedi te anche se il consiglio che io ti do personalmente almeno sui programmi che vai a utilizzare di più vai a crearti perdi un po di tempo e man mano che poi lo vai a utilizzare un prese personalizzato che in base proprio a come ti muovi tu ok perché non siamo tutti uguali però io ad esempio mi trovo bene con il prese che ho trovato già di default per quanto riguarda final cut photoshop ovviamente per le mie esigenze me lo sono un po modificato soprattutto con la console un po più professionale cioè la e light ok ragazzi qui come vedi abbiamo uno due tre quattro cinque sei sette otto tasti che puoi programmare a tuo piacimento qui abbiamo sì qualche tasto in più ma ti posso proprio dire che non li ho mai utilizzati perché quasi sicuramente anche tu quando andrai a utilizzare questa console andrai a utilizzare simultaneamente una tavoletta grafica oppure il tuo mouse più ragazzi vediamo velocemente anche come si procede per la personalizzazione in base alle nostre esigenze di combinazioni di tasti che di solito siamo abituati a fare proprio nella tastiera e vogliamo portarlo lì all'interno di questo console ok potrebbe essere che il prese che trovi già in dotazione come vedi qui nell'interfaccia nella parte destra abbiamo quasi tutti i programmi quelli più utilizzati potrebbe anche essere che utilizzi più preset per photoshop ad esempio e quindi in questo caso devi tu indicare quale vada a utilizzare personalmente quando utilizzo questa console vado a utilizzare anche una tavoletta grafica al 90 per cento però potrebbe essere che non sempre vado a utilizzare la tavoletta grafica utilizzo la console e la tastiera la tastiera la utilizzo sempre perché qualche funzione la richiamo ancora da qui ok proprio per abitudine tra l'altro io la tastiera in inglese perché anche sistema operativo in inglese proprio anche in questo caso per abitudine è un'abitudine che mi porto dietro da quando ho utilizzato windows 98 e da lì non ho più ho avuto un sistema operativo in italiano comunque non ha importanza perché la sequenza di tasti che ti faccio vedere è uguale anche sul tastiere con la yont in italiano ok ragazzi quindi potrebbe anche essere che tu vada a utilizzare questa console solamente con la tastiera o solamente con il mouse insomma vedete come ti trovi meglio però adesso facciamo una prova di come si procede per cambiare magari due tasti ti sei stancato e vuoi cambiare quindi voglio cambiare questo tasto che adesso vedi evidenziato e voglio cambiare questo tasto qui sotto ok come vedi quando li vado a premere vengono evidenziati con il colore questi due rotondi sono di colore verde comunque io voglio cambiare questo e voglio mettere la possibilità di invertire quindi nella parte sinistra vado a premere con il mouse vado a togliere questa sequenza e la vado a rifare perché voglio ottenere proprio inverso quindi vado a premere su tastiera command più i poi premo con il mouse su close poi qui con questo tasto voglio avere la funzione merge visibile ok quindi lo vado a premere qui vado a togliere e andiamo a ripetere quindi merge visibile come si fa si fa con command alt shift più e poi premiamo su close e a questo punto ho programmato i tasti a mio piacimento quindi entriamo su photoshop qui abbiamo la bellissima diana innanzitutto abbiamo due rotelline io le ho lasciate così come lo trovate programmate però si può ovviamente mettere a piacimento anche un'opzione proprio sulle rotelline con questa rotellina abbiamo la possibilità di zoomare e con l'altra rotellina quando vai a utilizzare i pennelli di aumentare o diminuire il raggio che hai anche con il timbro clone insomma con qualsiasi pennello tu vai a utilizzare ok ragazzi quindi un'operazione che ti semplifica decisamente la vita e soprattutto la velocità dopo c'è sempre il guru di tastiera che è molto bravo però io non sono uno di quelli dunque ragazzi allora a farci conclusivi di questo video voglio spendere anche due parole su una tavoletta grafica un modello della eins lab che utilizzo da tre anni forse anche quattro non lo so non è un video in collaborazione con questa azienda comunque le facciamo pubblicità anche perché è un valido prodotto allora io ho sempre acquistato modelli della wacom negli anni precedenti ma non avevo alternative sì c'era qualcosa ma credetemi le avevo provate le ho anche praticamente alcune buttate giù dalla finestra e quelle che potevo restituire le ho restituite ok non mi hanno mai soddisfatto poi grazie all'amico che vive proprio qui a belgrado che tra l'altro anche un canale youtube con oltre mezzo milione di iscritti mi ha detto mi ha consigliato di prendere questa cosa che ho fatto tre anni fa e sono rimasto decisamente molto soddisfatto eins lab taglia l o anche la taglia piccola m per quando ovviamente va di viaggio praticamente funziona come la wacom te lo posso garantire parlo della mia personale esperienza da normalissimo ritoccatore di ritratto ok dopo se sei un grafico ovviamente devi credo presuppongo rimanere su wacom però anche questo si potrebbe discutere ok ragazzi ti lascio il link descrizione è molto più economica proprio della wacom e ci sono due colori bianco e nero allora tornando a questo prodottino questa console allora ti posso dire che nel 2024 se dovrei utilizzare solamente photoshop ma anche final cut da abbinare alla tastiera andrei quasi sicuramente a risparmiare e acquistare la versione light qui abbiamo qualche rotellina in più anzi una rotellina in più per la precisazione e alcuni tasti in più che possono essere decisamente molto importanti per alcuni di voi per me non lo sono ok diciamo che questa rotellina che trovo qui e non abbiamo qui la vado a utilizzare soprattutto su final cut però è solo secondo me questione di abitudine ok comunque se hai la possibilità di spendere 265 euro ovviamente questo prodotto che ti vado a consigliare se vuoi risparmiare 95 euro ti prendi la versione light ok ragazzi quindi dove acquistare soprattutto questi prodotti per poter anche risparmiare sul sito ufficiale dove spediscono se vive in europa tranquillamente anche proprio dall'europa quindi non ci sono dati doganali e da quello che ho capito la spedizione è proprio gratuita e se riesco mi faccio anche lasciare un coupon così credo puoi anche risparmiare una cifra che sarà piccola però risparmiare anche magari 5 6 euro giorno d'oggi è sempre importante ok poi per quanto riguarda l'assistenza ce l'hai puoi rimandare indietro il prodotto se non sei soddisfatto ai 14 giorni di tempo come adesso ai su amazon perché anche amazon ha ridotto da 30 a 14 ok ragazzi quindi se ci sono domande per quanto riguarda proprio l'utilizzo di questo prodotto non hai capito qualcosina ci aspetto qui sotto nei commenti se il video ti è stato utile ovviamente per supportare il mio lavoro basta dare un semplice like oppure un dislike e pazienza ciao e alla prossima